Tutto si è realizzato veramente con la malafede da parte di tante persone, di cui mi ricorderò benissimo come hanno agito in questa occasione, e con il ricatto. Perché in maniera così spudorata, l'aver spostato al giorno dopo il voto delle riforme, le elezioni e il rinnovo delle commissioni, è una cosa che veramente fa schifo. Così come fa schifo aver rinviato il rimpasto di governo, ma cosa avete proposto? A cento persone di fare il presidente di commissione, a cinquanta di fare il sottosegretario, a undici di fare il ministro. Veramente è una cosa indegna, perché ne ho viste di mercati delle vacche, ma così no. Woodcock, se ci sei, batte un colpo. Grazie. 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 Grazie.